Musica Buonasera gentili telespettatori, un cordiale saluto a voi tutti da Honor News e il telegiornale delle marche di UTVRS. Se apriamo con un'operazione antidroga, un pakistano di 32 anni incensurato, residente a Caserta, controllato alla fermata degli autobus a Civitanova Marche, trasportava 8 ovuli contenenti complessivamente 70 grammi di eroina. È stato arrestato dai carabinieri che hanno approfondito le verifiche sul soggetto con regolare permesso di soggiorno, apparso nervoso anche dopo la perquisizione personale che aveva dato esito negativo. Accompagnato al reparto di radiologia dell'ospedale di Civitanova, l'uomo è stato sottoposto a TAC che ha evidenziato la presenza degli ovuli all'altezza del retto. La droga è stata sequestrata e l'uomo trasferito nel carcere anconetano di Montacuto. Lo stupefacente, di ottima qualità, avrebbe fruttato sul mercato circa 15 mila euro. Manette è anche un 51enne, residente a San Benedetto del Tronto, che era sfuggito alla cattura degli agenti della squadra mobile nell'ambito dell'operazione Siuda Perdida effettuata nella giornata di ieri. Il latitante è stato sorpreso nelle prime ore della mattinata odierna nelle vicinanze della sua abitazione e rinchiuso nella casa circondariale di Ascoli Piceno. E ci sono novità ad Ancon nell'inchiesta Ghost Jobs. Sentiamo. Esce dal carcere per scontare la misura cautelare agli arresti domiciliari il geometra del comune di Ancona, Simone Bonci, arrestato il 7 novembre scorso con l'accusa di corruzione per presunti appalti pilotati e scambi di favore con un cartello di imprese. Il GIP Sonia Piermartini ha accolto l'istanza dei difensori, avvocati Riccardo Leonardi e Lorenza Marasca. Non si conosce al momento la motivazione del provvedimento notificato ieri. Ora Bonci è uscito dal carcere di Montacuto. Nell'inchiesta Ghost Jobs, eseguita da squadra mobile e sezione PG municipale, coordinata dalla procura di Ancona, erano finite ai domiciliari quattro imprenditori edili, gravati dello stesso addebito, Francesco Tittarelli, 69 anni di Offagna, e Tarcisio Molini, 64 anni di Treia ma residente a Cingoli, Marco Duca, 40 anni di Cupra Montana, e Carlo Palumbi, 66 anni del Terramano. L'indagine, in cui altre 30 persone sono indagate per altri tipi di addebiti, è comunque ancora nella fase iniziale. Assolto l'ex direttore generale dell'Asur, Piero Ciccarelli, accusato di corruzione nell'inchiesta della procura di Ancona su presunti scambi di favore tra gli ex vertici dell'azienda sanitaria e la MediLife Spa di Roma, società specializzata nell'erogazione di servizi nel settore sanitario. Questa è la decisione del Gup di Ancona, Paola Moscaroli, dopo una breve Camera di Consiglio. Ciccarelli è stato assolto perché il fatto non sussiste. Assolti anche Alberto Carelli, ex direttore amministrativo Asur, per non aver commesso il fatto, e Gabriele Neri, membro della commissione di collaudo, perché il fatto non costituisce reato. I tre avevano chiesto di procedere con il rito abbreviato. Per gli altri indagati che non avevano chiesto riti alternativi, il Gup ha deciso il rinvio a giudizio. Stamane 60 studenti della scuola secondaria di primo grado San Giuseppe di Macerata si sono recati presso l'ufficio del questore Antonio Pignataro, dove tra l'altro è presente un presepe di alto valore artistico donato per queste festività dalla famiglia Cassese. Durante l'incontro il questore ha ribadito ancora una volta che i poliziotti possono essere paragonati ad angeli custodi che vegliano giorno e notte sulle persone, in particolare i giovani. Siamo la vostra famiglia, ha detto, rivolgendosi ai ragazzi. E ci avviciniamo a grandi passi al periodo natalizio. E finalmente c'è una buona notizia per Castel Sant'Angelo sul Nera, borgo devastato dal sisma. Sentiamo i dettagli in questo servizio. È stato firmato a Castel Sant'Angelo sul Nera il protocollo d'intesa per la costituzione del gruppo tecnico che si occuperà della redazione del piano attuativo per la ricostruzione del borgo appenninico distrutto dai terremoti del 2016. Una ricostruzione che avrà anche la firma dell'Archistar Stefano Boeri, che parteciperà al lavoro assieme al gruppo Mate, che si è giudicato la gara. Il protocollo è stato siglato oltre che dal comune di Castel Sant'Angelo, dalla regione Marche, dall'ufficio speciale per la ricostruzione, dalla provincia di Macerata, dall'ente Parco dei Monti Sibillini e dalla soprintendenza archeologica Belle Arti e Paesaggio delle Marche. È una giornata importante perché abbiamo avviato il percorso che porterà alla rinascita del nostro paese e questo avviene in prossimità delle feste natalizie che solitamente portano sempre momenti di speranza, ha detto il sindaco di Castel Sant'Angelo sul Nera, Mauro Falcucci. Sì, oggi è un giorno importante non solo per Castel Sant'Angelo, chiedo che lo sia per tutti i comuni colpiti dal sisma, perché è un esempio importante che prende forma e che grazie alla sua ombra regionale, grazie alla capabilità del sindaco, ai tecnici del comune quelli di Castel Sant'Angelo si è concretizzato. Finalmente un gruppo affidato alla gara d'appalto vinta appunto dal gruppo del maestro Boeri si farà carico di studiare e di vedere come ricostruire in questo territorio non solo il centro storico ma anche le frazioni, un fatto assolutamente importante e secondo me decisivo anche per il futuro, quindi credo che sia un grande esempio che noi dobbiamo replicare anche negli altri comuni. È vero che questo poi comporta un allungamento di tempi, però è anche vero che ci permette di dare una risposta in termini concreti, seri, certi ai cittadini che qui vogliono ritornare ma vogliono ritornare a vivere in sicurezza. La Regione Marche ha scelto il reparto di ginecologia ed ostetricia dell'ospedale di Macerata per attivare un percorso diagnostico-terapeutico-assistenziale per le donne affette da carcinoma dell'ovaio. 8 donne su 10, si leggono una nota colpite dal tumore dell'ovaio, ricevono la diagnosi quando la malattia è in fase avanzata. Solo nel 10% dei casi infatti viene individuato ad uno stadio precoce. Risulta quindi di particolare importanza sviluppare una conoscenza ed un'informazione su questa patologia, nonché mettere in campo un'importante azione di prevenzione. Nasce nel cuore di Ancona un nuovo spazio aperto al pubblico dedicato agli anconetani. Questa è la bella iniziativa dell'Agenzia delle Generali di Ancona che all'interno dei suoi nuovi locali aperti in Corso Mazzini, Noi Ancona ha creato un'apposita area a disposizione dei cittadini d'Orici con l'obiettivo di offrire alla città uno spazio aperto di aggregazione dove far incontrare le persone e condividere le idee e le passioni per creare nuove relazioni e nuove visioni. Dal prossimo mese di gennaio Noi Ancona offrirà al pubblico un ricco calendario di appuntamenti su temi di interesse collettivo, di tipo culturale e sociale. Tra i temi principali in programma, in primo piano la salute e il benessere dei cittadini, un fattore fondamentale per la crescita della città. Le Marche in Etichetta, un calendario artistico 2020 su donne e vino che celebra la produzione di qualità. Manolita Scocco Presentato in regione il calendario delle donne e del vino con le Marche protagoniste. Un'idea nata per festeggiare la regione dei vigneti attraverso le donne marchigiane che lavorano quotidianamente nel mondo del wine, tanto più dopo lo straordinario risultato che posiziona le Marche al secondo posto nella classifica internazionale Best in Travel 2020 di Lonely Planet, la guida turistica più famosa al mondo. Un entusiasmo contagioso delle donne e del vino, 900 in tutta Italia, 30 nelle Marche, produttrice, enotecarie, sommelier, giornaliste, blogger, ristoratrici che si sono fatte promotrici di questa bella iniziativa proposta dalla Grafiche Federighi per i suoi 50 anni nel mondo della stampa dell'etichetta del vino e presentata in conferenza stampa al presidente della regione Luca Ceriscioli, alla vicepresidente Anna Casini e illustrato dalla delegata nazionale dell'Associazione le donne del vino delle Marche, Daniela Sorana. Questo calendario è un'idea, devo dire, abbastanza recente. Le Grafiche Federighi, che sono una tipografia storica, che da oltre 50 anni stampano etichette di vino, qualche mese fa mi contatta perché aveva un'intenzione di fare questo calendario per il 2020 con il tema donne e vino. Quindi hanno, come dire, scelto noi per capire se potevamo insieme sviluppare un progetto. Noi abbiamo coinvolto l'Associazione nazionale delle donne del vino e insieme le Marche, insieme al nazionale, abbiamo creato questo calendario che racconta anche la nostra grande qualità non solo nel fare vini, nel fare ristorazione, ma anche in tutta l'artigianalità che contraddistingue veramente le Marche e le Marche di qualità. E siamo ora alla pagina sportiva che apriamo con la pallavolo. La Lube comunica che è l'opposto della formazione neocampione del mondo Amir Ghaffur dovrà sottoporsi ad un periodo di stop forzato. In seguito agli accertamenti clinici effettuati dallo staff medico biancorosso che si è anche avvalso della preziosa consulenza di alcuni specialisti, l'atleta risulta affetto da seri problemi alle vertebre della zona lombare per sovraccarico funzionale da stress, insomma. Per questo motivo il giocatore che nei prossimi giorni rientrerà in Iran dovrà osservare un periodo di riposo assoluto di 6-8 settimane, dopodiché verranno effettuati ulteriori accertamenti per valutare la situazione. Domani intanto secondo impegno nel girone di Champions League alle 16.30, ora italiana, ad Istanbul contro il Fenerbahce. Calcio, l'Ascoli ha festeggiato il Natale con i suoi partner e le principali autorità nel corso di un'intensa serata a Villa Picena. Prima il secondo appuntamento partecipatissimo del business meeting Crescere Insieme, poi la cena con la presenza della prima squadra e della Primavera di Abascal, tra l'altro in testa della classifica del suo campionato. Sentiamo le interviste al presidente dal patron Massimo Pulcinelli. Allora presidente, mentre direttore sportivo e direttore generale costruiscono la squadra in campo, voi state costruendo una bella squadra di sponsor e imprenditori vicini all'Ascoli Calcio. Esattamente, stiamo costruendo una società ancora più seria di come l'abbiamo trovata, perché ho sempre detto che una partita la vincono i giocatori, ma un campionato e le stagioni la fa una società seria. Chiaramente il calcio moderno è un calcio che ha bisogno di sponsor, ha bisogno di risorse. Noi cerchiamo di coniugare le risorse economiche con un progetto di crescita insieme, con un progetto in cui siano condivisi i valori della correttezza, delle realtà, dell'onestà e dell'imprenditoria sana. E dell'internazionalità, perché l'Ascoli sta cercando di allargarsi, di allargare i propri orizzonti. Assolutamente. Io torno da una missione nella regione di Lipesk, è una regione che è a 450 chilometri al sud di Mosca, è una regione, forse la regione più importante dal punto di vista di crescita economica. Ho incontrato gli imprenditori, perché farò fare degli incontri business or business, sia sul territorio italiano che quello russo, per avvicinare i nostri sponsor all'internazionalizzazione delle imprese. Soprattutto dal punto di vista sportivo, ho siglato un accordo, con la squadra locale, il Metalurg, è un'ottima formazione, con cui andremo a fare la prima Ascoli Academy. Quindi avremo la possibilità di monitorare centinaia di giovani calciatori e i più meritevoli saranno ingaggiati dal nostro club. Arriviamo a questa festa dopo una bella vittoria con il Cittadella e prima di un evento molto importante a livello sportivo. La sensazione è che l'Ascoli ci sia e sia veramente vicinissimo alle prime. Sì, credo che l'evento, insomma, la gara di sabato sia stata un po' uno spartiacque. Non vincerlo avrebbe significato una cosa, averlo vinto significa un'altra. Se ci crediamo fortemente, come vedo che stiamo facendo non solamente io, ma tutto lo staff tecnico e tutti i ragazzi, sicuramente possiamo dirla nostra in questo campionato, che ancora non ha definito chi sarà al secondo posto. Perciò lavoreremo appunto per i play-off, ma magari incrocio le dita come segno scaramantico e magari possa venire qualcosa di più bello e più interessante. Ma a prescindere da questo, continuiamo a portare avanti senza troppa enfasi, con un atteggiamento giusto di crederci, ma senza ostentare nulla. L'obiettivo resta quello dei play-off per quest'anno. L'ultima domanda su questa piazza, straordinaria nel calore, nell'essere vicino a questo Ascoli. Ma come ho già detto più volte, sono stato catturato alla prima cena con i tifosi e da lì in poi non me ne sono più liberato, tra virgolette, nel senso positivo. Cioè non riesco a farne a meno, l'adrenalina è tantissima e se come stiamo facendo continuiamo a far bene, probabilmente ci toglieremo delle soddisfazioni e condividerlo con un popolo come questo che ha una storia, un credo, anche un'esperienza calcistica a differenza di cittadine appena prodate nel mondo del calcio sarebbe per me una grandissima soddisfazione. E poi un pensiero a Costantino che appunto domani sono 25 anni che ci guarda da lassù. Ovviamente in casa bianconera, attenzioni puntate sul match di Udine di domenica contro il Pordenone, ancora fermi ai box nell'allenamento di ieri, Puccino, Ferigra e Dacruz. Tornando alla pallavolo, nuovo volto alla Giban Fano, partecipante al campionato di Serie 3. Si tratta dello schiacciatore 23enne Mattia Sorrenti, alto 196 cm e proveniente dal Sabaudia. Siamo ora alle previsioni meteo per giovedì 19 dicembre. Il maltempo continua a imperversare sul nostro paese, con precipitazioni a tratti anche di forte intensità. Spostiamoci ora al centro. Qui le precipitazioni, anche temporalesche, interesseranno soprattutto la Toscana. Fenomeni meno intensi saranno inoltre possibili sull'Umbria, meglio altrove. Concludiamo dando uno sguardo alle temperature previste. Di notte i valori toccheranno punte minime di 6 gradi e non supereranno i 15 gradi su tutta l'Italia. Durante il giorno attendiamo invece fino a 14 gradi al nord, fino a 16, al centro e punte di 18 gradi sulle regioni meridionali. Bene, per ora abbiamo terminato. Per ulteriori aggiornamenti e dettagli visitate le nostre pagine ufficiali di Facebook e di Instagram e il nostro sito ilmeteo.it, dove la IL fa la differenza. Arrivederci. A seguito della riscontrata mancanza della certificazione antincendio verrà chiuso il Pala Sabatini di Ancona e la partita di sabato alle 17.30 di volley contro Faenza della Conero Planet sancirà la chiusura dei battenti di un impianto in gestione alla WISP. Auspichiamo che si possa trovare una soluzione nell'interesse del movimento del volley in Conetano, ha detto il presidente Mauro Castracani. Siamo disponibili ad ogni soluzione per tutelare le quasi 100 ragazze che fanno sport ogni giorno. Con questo è tutto, grazie per la cortesa attenzione e appuntamento a domani. Grazie a tutti per la cortesa attenzione e appuntamento a domani.